Profonda commozione a Napoli per la morte di Umberto Sbrescia che si è suicidato nel suo negozio di fotografia alle spalle di piazza Garibaldi. L'uomo in un biglietto ai familiari ha chiesto loro di lasciare la città e implora lo Stato a non rivalersi sui suoi congiunti per i debiti maturati. E' andato di mattina nel suo negozio e poi non si è ritirato a casa per pranzo. La famiglia ha chiesto l'intervento della polizia quando è stata aperta la porta del locale e la scoperta del corpo senza vita di Sbrescia che si era impiccato.